Il Comune di Napoli ha partecipato alla giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, mettendo Portalba al centro degli eventi. Reading e musica nella storica via dei libri per l'appuntamento che diventerà permanente all'interno della programmazione culturale della città di Napoli. Curato da Associazione Culturale Portalba, ACE, l'Associazione Campana Editori e Napoli Città Libro nell'ambito delle attività del Patto per la lettura del Comune di Napoli che mira la diffusione della cultura del libro in città. Ascoltiamo ai nostri microfoni Alfredo Mazzei, presidente dell'Associazione Culturale Portalba. È un bel evento, abbiamo messo insieme molti autori, scrittori, performance a Portalba. È una delle prime iniziative dell'Associazione, non la prima. Sono qualche mese che promuoviamo queste iniziative, altre ne faremo. Stasera sarà un evento di spettacolo, di cultura, di divertimento per promuovere l'Associazione e far ritornare la strada ai fasti che merita. Consapevole del valore della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico, attraverso il Patto per la lettura, l'amministrazione comunale accoglie e promuove le iniziative provenienti dal territorio che favoriscono l'accesso alla conoscenza e la diffusione della creatività, creando importanti occasioni di coinvolgimento attivo per tutta la cittadinanza e valorizzando il patrimonio culturale della città. Tantissime le persone intervenute per una riflessione sull'importanza dei libri e del diritto d'autore nella società con letture e approfondimenti. La poesia è sempre un piacere da dire, stare con la gente, in mezzo alla gente per parlarne e farla sentire, quindi è una coccola per il cuore. Il libro arricchisce, arricchisce la mente, arricchisce la vita, dà la possibilità di avere delle visioni di un mondo altro da sé. Cosa ci spinge a leggere? Credo che quella è la stessa cosa che ci spinge a ricercare sempre qualcosa che è dentro di noi e che noi ricerchiamo nella lettura per trovare qualcosa che ci risuoni. Grazie a tutti.